Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in una nuovissima avventura con me Mattel Studio Oggi andremo a parlare di Captain America Brave New World Tutto dopo la sigla E ascoltatemi attentamente ragazzi in questa nuovissima avventura Perché ci sarà molto da parlare Infatti questo è un approfondimento sulla trama di Captain America Brave New World Che è già uscito questo video appunto ragazzi Infatti Captain America 4 sarà l'unico film a non avere Steve Rogers come protagonista Ma ci sarà Sam appunto che interpreterà i panni di Captain America Dopo che quest'ultimo si è ritirato Infatti ragazzi noi all'inizio eravamo dispiaciuti Ma io perlomeno sono molto sicuro che questo film potrebbe essere uno dei più belli dedicati appunto a questo supereroe Ragazzi questo film appunto riporterà anche moltissimi personaggi visti per esempio nella fase 1 Soprattutto in Hulk come per esempio lo stesso capo Il capo anzi ragazzi Oppure Ross anche se diciamo con un volto diverso purtroppo per il decesso dell'attore Però ragazzi dovrebbe essere una novità pazzesca In questo film dovrebbero esserci di tutti i tipi Dovrebbero esserci tutti i tipi di attori Che abbiamo già visto in molti film della fase 1 Soprattutto in Hulk L'incredibile Hulk Ragazzi tra l'altro il capo sarà impegnato negli attacchi terroristici E non si è ancora capito se il personaggio che dovrà interpretare appunto Giancarlo Esposito Sarà un personaggio che sarà collegato al capo Oppure sarà indipendente Ma anche lui dovrà fare degli attacchi terroristici Un altro villain e l'ultimo è appunto il generale Ross Che è nei panni di Hulk Rosso In realtà è il generale Ross che diventa Hulk Rosso Per chi non lo sapesse Hulk Rosso è un Hulk Come a tutti gli effetti Ma che è un po' diverso Sapete perché? Perché lui quando si trasforma a differenza di Hulk È tipo come il dottor Banner che diventa Hulk Hulk Banner L'Hulk sapiente Che lui ha tutto in testa però con la potenza e la cattiveria di Hulk E finalmente vedremo un Hulk selvaggio, cattivo, arrabbiato Sugli schermi Finalmente dopo una marea di tempo Dopo appunto in realtà Thor Ragnarok Detto questo ragazzi noi ci possiamo salutare A vedere nella prossima avventura in un prossimo video Fatemi sapere cosa vi aspettate da questo film E niente Da Matteo Storia è tutto Bye bye guys